Sì, grazie per la linea dallo studio, sono in compagnia di Amparo, giocatrice del Montesilvano Calcio a 5, perché? Perché è una bellissima realtà di questo sport, state andando molto bene, siete reduci da questa bella vittoria di Firenze 8 a 3, ma è un periodo positivo per voi e questo periodo positivo vi ha spinti ad occupare l'attuale terzo posto? Sì, stiamo in un momento di crescita, la partita contro Firenze è stata una partita bella, una partita di squadra dove tutti abbiamo giocato benissimo, siamo andati lì a Firenze sapendo che era una squadra forte, però con tanta fame, con tanta voglia di vincere, con carattere, quello si è visto in campo e ho riuscito a una partita bellissima. Senti una partita del collettivo, però tu hai realizzato tre gol, bella soddisfazione? Sì, sì, pure mi sentivo comoda, pure ogni giorno con le mie compagne mi sento più comoda, quindi quello si vede in campo e grazie a Dio posso fare anche gol. L'anno scorso secondo posto, quest'anno volete migliorare? L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo usciti prima e sì, vogliamo migliorare, è certo che quest'anno puntiamo più alto, è cambiata un po' la squadra, è una squadra rinnovata, che all'inizio non era tanto così, però piano piano si vede che il risultato si vede in campo e stiamo migliorando. E adesso vi attende questa partita in casa, giocate i vostri match al Pala Santa Filomena di Chieti contro la Ternana, la Ternana che è campione, sono campionesse d'Italia in carica, però avete già incontrato questa squadra e avete vinto la Supercoppa, sarà insomma una bella sfida, tutto da vedere, ore 15 domenica al Pala Santa Filomena. Esatto, faccio l'invito domenica alle 3 qua al Pala Santa Filomena, la Ternana è una squadra forte e ancora più forte della Supercoppa perché si è rinforzata tantissimo, quindi sarà una bella partita, una bella sfida dove si deve vedere il lavoro che stiamo facendo questa settimana in campo e dobbiamo continuare a vincere e conseguire i tre punti. E dovete continuare questa rincorsa al vertice attualmente, chi è che vi precede? Kick-off, è una squadra pure di Milano troppo brava, è una delle prime, ci stanno squadre che hanno conseguito più punti, però secondo me noi stiamo lì, la parte alta della classifica è troppo vicina a una squadra dell'altra, quindi dobbiamo continuare a vincere, vincere, vincere e pensare partita dopo partita. L'ultima, prima dicevi, è squadra rinnovata, è una squadra quindi che sta crescendo piano piano, è un bel gruppo? Sì, sì, ogni giorno si vede di più il gruppo, è certo che siamo tanti straniere che pure vogliamo fare del nostro meglio, però sì, sì, si vede che c'è una squadra, non solo un gruppo, stiamo trasformandoci in una squadra e quello non solo si vede fuori, sino dentro del campo. Grazie, grazie di cuore all'amparo, dunque l'appuntamento è alla Pala Santa Filomena domenica ore 15 per questa importante sfida tra Montesilvano e Ternana. La linea può tornare allo studio.